e veniamo alle ultimissime anticipazioni di uomini e donne di maria de filippi in quanto finalmente ci sono state le scelte del tronsita federico nicotera incredibilmente la scelta di la vigna mauro non è nemmeno stata annunciata insomma potrebbe essere un discorso molto lungo la scelta di federico nicotera federica nicotera nuovo tronista di uomini e donne al colosseo che la scelta di federico nicotera sarebbe stata la varesina carola carpanelli sinceramente lo si era capito da tempo infatti se ricordate andò proprio a riprenderla a varese e a tina cipollari e gianni sperti che obiettavano circa un mese fa disse senza tanti giri di parole che la scelta sarebbe stata la sua e che avrebbe deciso con la sua testa insomma senza condizionamenti e questo è stato infatti tramite una serie di foglietti fra cui il finale ha comunicato a carola che la scelta sarebbe stata lei alla scelta erano presenti anche la madre e la sorella a cui il tronista è molto legato alice ha preso la scelta con grande sportività dicendo che in parte se l'aspettava e ha salutato con grande educazione sia lui che la conduttrice e ha lasciato lo studio presenti anche il tronista nicol santinelli che ha ballato con andrea e la vigna mauro che non ha riceveuto nessun invito per ballare nel trono ovar spazio ad esdemona che ha lasciato il programma e al bacio fra gemma grazie a tutti